Il nuovo SUV compatto di casa Lexus con la quale Lexus in Italia punta a raggiungere le 3.000 unità nel 2015. La Lexus oggi è presente con una gamma completa ibrida, unico brand al 100%. Il nuovo Enix Hybrid tra i vantaggi che ha ovviamente oltre allo stile al design unico e distintivo ha comunque il cuore di questa vettura il 2005, la nuova unità 2005 ibrida che permette di avere numerosi vantaggi in termini di costi di gestione. Come ad esempio l'esenzione in molte regioni, sei regioni in Italia, più la provincia autonoma ad esempio di Bolzano dove è possibile non pagare il bollo per i primi tre anni dalla prima immatricolazione. Oppure altri vantaggi quali ad esempio l'accesso gratuito alle zone a traffico limitato, una su tutte come esempio la possibilità di entrare in area C di Milano senza dover pagare l'ingresso. Oppure altri vantaggi che possono andare dall'esenzione dei parcheggi a pagamento in alcune città come ad esempio la città di Roma. Enix Hybrid arriverà nei saloni delle concessionarie il prossimo weekend con il lancio ufficiale, il film tv è già online, è già in tv. Il posizionamento di questa vettura sarà Welcome to the World of Amazing. Infatti crediamo che sia il posizionamento centrato per questa vettura in quanto il nostro target è sicuramente un target di conquista per l'80%, rivolgendoci a quelli che sono i brand premium più blasonati dalle German Tree per passare poi a altri brand in Italia molto blasonati come Volvo e Land Rover. Welcome to the World of Amazing perché probabilmente sarà la prima Lexus per alcuni dei nostri clienti e quindi potranno finalmente accedere a quello che è un mondo amazing, un mondo fatto di cronogia e soprattutto un mondo fatto di libri.